Previsioni meteo per domenica 11 marzo. Cielo numuloso con parziale diminuzione della copertura in nottata. Deboli precipitazioni dalla tarda mattinata e più insistenti nel pomeriggio quando assumeranno carattere di rovescio per poi attenuarsi di nuovo in nottata. Temperature in aumento. Venti moderati nelle zone interne sud-occidentali e lungo la costa. Mare mosso. Mare mosso.